Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 12 dove si segnalano code a tratti per un incidente avvenuto al chilometro 127 tra l'allacciamento con raccordo Lucca-Viareggio e Massa in direzione Genova, in A1 in direzione Bologna, tratto chiuso per lavori tra Aglio e Roncobilaccio fino al 28 febbraio. Spostandoci sulla FIPILI, rallentamenti tra Scandicci e Firenze e Scandicci in direzione Firenze. Per la viabilità cittadina si ricorda che a Firenze è stato sospeso l'obbligo di spostare le vetture in occasione della pulizia delle strade. No multe e rimozioni fino al 31 marzo. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!